Benvenuti in questo nuovo video Anticipazioni di Pelosetti di Endless Love dal 20 al 25 maggio 2024. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali di Endless Love. Lunedì 20 maggio, Kemal è pieno di rabbia e delusione perché non riesce ad accettare la decisione di sua sorella di sposarsi in segreto. Si sente colpevole per aver lasciato la famiglia in un momento così difficile e si rende conto di aver dovuto essere più presente. Si rimprovera di non aver preso personalmente cura di Zeynep, credendo che se avesse fatto così, tutto questo non sarebbe mai successo. Nel frattempo, Emir offre il suo aiuto a Onder, che raggiunge Zeynep e Ozan, i quali si sono sposati e fuggiti insieme. Emir cerca di convincere il figlio e la nuora appena acquisita a trasferirsi a casa con lui e il resto della famiglia, ma è incerto sulle vere intenzioni di Zeynep. Tra Emir e Zeynep, quindi, si scatena una guerra di sentimenti. Martedì 21 maggio, Vildan è decisa a non accettare in alcun modo la nuora del figlio, sperando che la loro relazione finisca presto. Nel frattempo, Leila è determinata a fare tutto il possibile per salvare la sua casa, che sarà presto messa all'asta. Nonostante la situazione, Leila rimane tranquilla. Al contrario, Kemal teme un possibile inganno dell'ultimo minuto e offre il suo sostegno morale ed economico a Leila. Nel frattempo, Asu intercetta una busta destinata a Kemal e, spinta dalla curiosità, decide di aprirla. All'interno, trova delle foto che ritraggono Zeynep ed Emir. Mercoledì 22 maggio, Zeynep si trova in una situazione difficile, con la famiglia di Nian e Emir che le fanno pressione per lasciare la loro casa. Emir minaccia di rivelare presto la sua vera natura, mentre Asu possiede delle foto compromettenti di Zeynep ed Emir e la convince ad agire rapidamente per evitare che Emir possa ricattare Kemal. Zeynep, a sua volta, persuade Ozana ad annunciare pubblicamente il loro matrimonio, tenendo all'oscuro Vildan, che invece vuole separare la coppia. Nel frattempo, Asu informa Emir di aver intercettato le foto che lui aveva inviato a Kemal e lo avverte di non fare del male a Zeynep, minacciando di affrontarlo direttamente. Emir decide di conservare le foto per il momento opportuno. Successivamente, Emir e Kemal hanno un acceso confronto a causa di Zeynep. Giovedì 23 maggio, Nian è determinata a scoprire i segreti di Zeynep. Così si incontra con Sali. Anche Kemal desidera chiarire la situazione e chiede un incontro ad Ozana. Quest'ultimo si accorge dell'assenza di Zeynep e trova una lettera che lei ha lasciato. Esprimendo il suo amore per lui ma annunciando la decisione di chiedere il divorzio per non separarlo dalla sua famiglia. Ozana, disperato, tenta il suicidio, ma viene salvato da Onder e Vildan, che lo trovano in fin di vita. Viene quindi trasportato in ospedale e salvato. Nel frattempo, Nian riesce a ottenere informazioni da Zeynep e si unisce a Kemal e a lui nel luogo dove Karen e suo marito dovrebbero ritirare i passaporti. Mentre Kemal e Zeynep sono pronti a intervenire, arriva la polizia che porta via Karen e Tanner. Successivamente, Nian e Kemal scoprono che i coniugi non sono mai stati portati in stazione di polizia, sospettando l'intervento di Emir. Karen e suo marito sono effettivamente nelle sue mani. Venerdì 24 maggio. Un individuo misterioso, rivelatosi essere Tufan, invia anonimamente a Nian e Kemal dei file contenenti registrazioni dell'interrogatorio di Emir a Karen. Questo fa comprendere loro che Emir è consapevole dei loro sospetti. Tuttavia, Emir non è a conoscenza del fatto che siano stati informati della sua consapevolezza. Kemal è più determinato che mai a continuare la sua battaglia contro Emir. Nel frattempo, Nian viene informata del tentato suicidio di Ozan e si affretta in ospedale, promettendo di riportare a casa Zeynep. Vildan ha pregato Kemal di farlo per proteggere suo figlio. Emir arriva in ospedale, seguito da Tufan, preoccupato per il suo capo. È disposto a scoprire dove siano Karen e suo marito, ma Emir lo esonera da tale compito. Nel frattempo, Zeynep, senza una sistemazione per la notte, chiede a Sally di ospitarla, superando le sue obiezioni. Cerca anche di chiarirsi con lui. Emir inizia a sospettare di Tufan. Kemal riceve una chiamata da Sally che lo avvisa che Zeynep è a casa sua. E quando la va a prendere, la porta all'ospedale dove ha ricoverato Ozan. Zeynep assicura a Kemal di amare davvero Ozan e spiega di essere fuggita dalla casa di Sezzin a causa dei conflitti con Vildan. Pertanto, Kemal decide di non ostacolare il loro amore, a condizione che Zeynep non viva più con Vildan ed Emir. Nel frattempo, Galip chiede a Emir di ritirare l'offerta per la casa di Leila, temendo che ciò possa causare problemi. Sabato 25 maggio, Kemal visita Ozan con un doppio scopo. Prima di tutto, vuole sincerarsi delle sue condizioni. In secondo luogo, ha in mente di proporre qualcosa. Questo piano consiste nell'offrire a lui e a Zeynep tutto il supporto finanziario necessario, a condizione che lasciano la casa. Questa mossa li metterebbe al riparo dalle influenze negative di Emir e Vildan. Ozan trova questa prospettiva allettante e la discute con Zeynep, ma lei si oppone. Tuttavia, poiché Ozan insiste, lei provoca deliberatamente la gelosia di Vildan, sperando così di sabotare il piano di Kemal per allontanarli da casa Sezzin. Nel frattempo, Nian rivela a Kemal che Emir sostiene di aver riesumato il corpo di Linda e di averlo sepolto in un cimitero. Kemal non si fida di questa versione, convinto che sia solo un diversivo di Emir. Leila è pronta per partecipare all'asta per la casa, senza sapere che Vildan, con l'aiuto di Galip, sta tramando qualcosa per mettere le mani sulla proprietà. Nian accompagna Leila all'asta, ma Kemal non può unirsi a loro poiché Zeynep gli ha riferito di aver scoperto il nascondiglio di Karen e ha deciso di andare a salvarla. Kemal e Zeynep si recano al nascondiglio, sorvegliato da uomini di Emir. Nel frattempo, durante il tragitto verso l'asta, Nian e Leila rimangono coinvolte in un incidente d'auto. Senza documenti d'identità, uno degli uomini coinvolti nell'incidente insiste per chiamare la polizia. Le due donne credono che sia solo sfortuna, ma in realtà è una trappola orchestrata da Galip, che permette a Vildan di partecipare all'asta senza ostacoli. Zeynep soffre per il rifiuto dei suoi genitori, ma trova conforto nella sua bella casa e convince Ozan a rimanere con la famiglia per sfruttare al massimo l'opportunità. Feime è afflitta dalla lontananza della figlia, ma viene consolata da Asu. Dopo aver assicurato a Karen che vuole conoscere tutta la verità, che Mal cerca il marito della donna, Tanner, ancora prigioniero in un luogo segreto. Emir affida a Tariq un incarico delicato, ma non è certo che sia all'altezza della situazione. Per garantire il successo del piano, coinvolge Tufan, responsabile di supervisionare l'operazione. Se Tariq dovesse fallire, la colpa ricadrebbe su Tufan. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni di Endless Love dal 20 al 25 maggio 2024. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.